Però c'è questa installazione che è l'interno di un sottomarino. Questa parte ancora non è completata. Qui sarà esposto il portellone recuperato dal revito dello sci-re e qua dentro invece abbiamo una rivoluzione all'interno di un sottomarino e un periscopio. Questo periscopio, adesso ancora il software va tutto interfacciato, però anche questo teriscopio vedrà gli altri simulatori. Quindi da qui, dal sottomarino, potremo emergere e vedere il sestriere che passa. E lo stesso che usiamo anche nei sistemi che vendiamo, gli sottomarini all'interno. Esatto, loro fanno sottomarini, cioè simulatori professionali per la marina militare. Esattamente questo modello. Tatti ha un'aria un po' militare. Sì, sì, esatto. Sì, sì, funziona l'interno. Assolutamente.